ciao ragazzi tutto bene? a me sì! prima di iniziare il video di oggi volevo farvi un ringraziamento speciale sapete oggi il mio canale youtube compie tre anni il 29 settembre di tre anni fa la notte tra il 28 e il 29 settembre di tre anni fa ho pubblicato il mio primo video assolutamente casareggio ASMR è stato l'inizio di una lunga storia sapete un po' com'è andata e non mi aspettavo non mi aspettavo tante cose non mi aspettavo dopo tre anni di ritrovarmi qua quindi ho la pelle d'oca quindi ragazzi prima di iniziare questo video ci tenevo a ringraziarvi perché fortemente perché se sono qua non è soltanto merito mio è anche merito di coloro che hanno deciso di porre fiducia in me e di ascoltarmi e venirmi a trovare tutti i giorni qua sul mio canale io sono estremamente emozionata perché questo compleanno per me non era scontato e spero mi auguro di poterne festeggiare tanti altri compleanni di questo canale sapete per me quanto youtube sia importante perché questa è la piattaforma dalla quale nasco anche se sono diventata nota con tiktok però è da qui che è cominciato tutto grazie veramente di cuore ragazzi per il supporto che mi avete dato che mi state io cercherò di fare del mio meglio per farvi stare bene per strapparvi un sorriso quando venite qua su questo canale quando vedete questa faccia o semplicemente per farvi dormire rilassare grazie grazie di vero cuore perché questo non è solo il semplice un semplice compleanno questo è il compleanno di tutti noi questo è il compleanno di chi ha voluto che io arrivassi fin qui oggi piccolo step piccolo traguardo questo per me di tre anni è la soglia dei 50 mila iscritti però per me tanto tantissimo perché per me nulla è scontato quindi grazie grazie di cuore ragazzi auguri a tutti quanti noi auguri a chi crede in me auguri a me auguri a me grazie io oggi vi porterò un video speciale sarà un roleplay spero gradiate buon rilassamento ragazzi e ancora tanti auguri a noi per me per me per me Sì Questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, questo è stato visitato, prego avanti, si accomodi, si accomodi Salve, buonasera, buonasera, no no no, non si preoccupi, non hai in ritardo, piacere, sono la dottoressa Mary Jane, come mai qui oggi? Sì, nelle ultime settimane hai riscontrato problemi alla vista? È la prima visita che fa? No, ne ho già fatte altre in passato. Ok, allora, adesso le faccio alcune domande e io riporto al pc, creo la sua scheda clinica, in modo tale che quando ci rivedremo in futuro potrò vedere le informazioni che ho scritto oggi, ok? Ok, le faccio qualche domanda Come si chiama? Ok Dove abita? Ok Sì, mi può dare la testa sanitaria? Sì, grazie Ok 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 ok, allora, torniamo a noi qual è il fastidio che lei ha? occhio sinistro? mh? vede abbannato, ok? ok, ok non vuol dire che sta diventando cieco ci possono essere altre problematiche che si possono risolvere ma per forza la perdita della vista è un qualcosa che è un qualcosa di irreversibile può essere semplicemente un problema che potremmo andare a risolvere non ci preoccupo allora, ha già fatto, mi ha detto dei controlli prima di queste visite lei aveva mai avuto questo disturbo? no, però ho avuto un intervento all'occhio sempre quello sinistro ok, è stata inserita una lentina ma ci vedeva bene poi ok quindi adesso vede abbannato e questo fatto, da che cosa è di peso? lei si è alzato la mattina e non ha più visto nulla dall'occhio sinistro ha cominciato a vedere? ha cominciato a vedere nebbiato dal nulla? oppure ha avvoltato? ah, ok ok ha avvoltato, quindi ha avuto un trauma allora, trauma dell'occhio sinistro quindi, mi spieghi bene lei ha avuto una sorta di incidente era a casa ha sbattuto la testa da questo lato qui sì e poi non ha cominciato più a vedere bene dall'occhio sinistro dove è stato operato anni fa va bene? allora, io ho acquisto tutte le informazioni necessarie adesso io però come vede il mio studio il mio centro oculistico è una sorta di centro relax per i pazienti che vengono a farsi visitare io cerco di mettervi quanto più a vostro agio possibile perché so bene che possono esserci dei pazienti che a volte sono ansiosi quindi io cerco di ricreare un ambiente orologi soffuse colori che insomma fanno stare bene ok? il paziente come vede io già cerco di metterla su agio deve stare tranquillo perché la visita che le andrò a fare lei non sentirà alcun tipo di dolore ok? mi metto i guanti killing ok? Grazie a tutti. Allora, si copre l'occhio destro, si copre l'occhio destro, ok? La mano si muove, quello che sinistro mi dica la mano si muove. Adesso, si muove, si muove, ok? La mano si muove, la mano si muove. La mano si muove, la mano si muove. La mano si muove. La mano si muove, la mano si muove. Quante dita sono queste? Quante dita sono queste? Ok, quindi praticamente vede come una luce, riesce a vedere però che le sembrano due. Però fatica, ok? Si copre adesso l'occhio sinistro e vi faccio vedere un attimo il destro. Quante dita sono queste? Ok, sentiamo questa cosa del primo. La mano si muove? Ok. La mano si muove? La mano si muove? La mano si muove? Ok, ok. Ecco qua vede bene. Va benissimo, va benissimo, va benissimo, si si. Allora, come vede? Come vede? No, poi non si preoccupi, le dirò dopo se è grave o no. Però non credo sia grave. Come vede, alle mie spalle io ho la tavola optometrica. Lei dovrà riconoscere i simboli, le lettere che io le andrò ad indicare, ok? Con questo bastoncino. Si si rilassa, non si preoccupa. Iniziamo. Iniziamo. Si tenga tutti e due gli occhi aperti. E F P T O Z Bene. Adesso questa. La vede? No, non è una D, è una P. Questa che le tre. Sta facendo un po' di fatica. E' una D. Sappongo che probabilmente non riuscirà a vedere le altre. Mi dica questa. Che lettera è? Una F? Si è una F, è una F. Però ho provato ad indovinare, era insicuro tra una E e una F. Questa, questa che le tre. Questa che le tre è? E' un po' più difficile. Non vede? Questa? Non vede? mi lascio guardare ma si che cosa si è dato nell'occhio mi scusi si perchè qua sotto ha anche una specie di livido ad un ramo nel suo giardino il ramo di un albero era troppo basso ho capito si e questo è successo nel giardino di casa ha avuto una botta fortissima ma l'ha presa praticamente qui cioè le ha preso la testa ma le ha preso anche questo lato qui perchè qui vedo un po' di livido allora io sto vedendo come reagisce la pupilla ok l'altro occhio sta bene si si in effetti è un vero e proprio trauma al suo allora non ho le paure posizione adesso la testa sullo strumento che trova di fronte a lei quindi la base il mento lo metta così si perchè io adesso trovo a vedere con una lente luminosa ok posiziona il mento così ecco rimanga fermo non si preoccupi anche questo step non è doloroso ok non si preoccupi eh tutto sotto controllo tutto sotto controllo tutto sotto controllo se posso guardare in Unbelievable sto guardando si Vi faccio vedere l'altro occhio, quello destro. Risposto leggermente alla testa. Ok, stia fermo a passare di nuovo questa specie di lentina, questa specie di binocolo davanti ai suoi occhi. L'altro occhio. Ok, mi faccio riguardare. Ok, mi faccio riguardare l'altro occhio. 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 Ho capito qual è il problema. Lei ha subito l'intervento, il sinistro. Le hanno messo, ha detto, una lentina, no? Con il trauma che lei ha avuto all'occhio sinistro. L'altro occhio. L'altro occhio, l'urto che ha preso questa zona qui, ok? È stato talmente forte. Siccome è una bastonata in sostanza che lei ha avuto, ha fatto sì che la lentina che è stata messa sull'occhio all'interno, chiaramente, durante l'intervento che ha avuto qualche anno fa, si è spostata. Lo spostamento della lentina ha fatto sì che lei adesso veda annebbiato, ok? Si è spostata questa lentina. Quindi, lei non è cieco. Lei, praticamente, ha avuto questo problema. Quest'urto le ha spostato. Quello che i miei colleghi, il lavoro che i miei colleghi avevano fatto, ok? Quindi non si deve preoccupare, perché è un banalissimo intervento, si può rimettere a posto. Deve semplicemente stare tranquillo, recupererà la vista. Perché una volta rimessa a posto la lentina, l'intervento dura pochissimo. Si, 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 non sentirà alcun dolore. Lei potrà tornare a vedermeli, ok? Si, ora io le prenoto la data. Sì, sarò io stessa a farle l'intervento. La settimana prossima per lei va bene? Sì, dai hospital. Assolutamente, visto che lei ha già fatto l'intervento, già saprà che non è nulla di che. Sì, è per esempio l'intervento però non è niente di traumatico. È messo peggio adesso perché, suppongo, è la fatica che lei stia facendo per poter vedere. Bene? Lei praticamente non vede a causa del fatto che la lentina si è spostata. quindi questo le dà la sensazione che... Sì, ho già fatto la prova prima. Vedete? Quanti sono questi? Sì, lei li vede. Però vede tutto fuscato, come vi stava dicendo prima, sì. No, sparirà questo problema, sparirà. Sì, le daremo poi questo intervento, poi le diremo che con li riutilizzare per mantenere, sì, esatto, l'idratazione dell'occhio. Dovrà tenerlo un po' a riposo, giusto qualche giorno, però poi... Sì, esatto, anche evitare la luce del sole per qualche tempo. Sì, metta pure gli occhiali da sole poi una volta che tornerà a tossire perché è importante che gli occhi non becchino i raggi solari troppo forti già di natura nostra. Non bisognerebbe beccarci il sole nei miei occhi perché fa male. Nel suo caso, una volta che avrò fatto l'intervento, ma anche adesso, è mettere gli occhiali da sole. Non noto chiaramente da domani, se non l'ho ancora fatto, protegga gli occhi, sì, sì. Sì, la settimana prossima si reghi in clinica. Questi sono gli appunti che dovrà portare una volta in clinica. Non si preoccupi, non ci sono problemi. No, non si preoccupi, si può far accompagnare, sì, da un parento, non si preoccupi. È una cosa banalissima, però andrà tutto bene, non si preoccupi, vedrà che risolverà. Bene, venga, la ringrazio per aver scelto questo centro oculistico. Le auguro buona giornata. Salve. Troppo.